Se volete avere tutti i veicoli del DLC Shop Shop gratis insieme a aggiunta di denaro presso MK2 nel vostro account personale di GT Online oppure account montati con miliardi, corsa montata, completi montati per tutte le piattaforme al prezzo più basso d'Italia in assoluto potete contattarmi in uno dei contatti in descrizione come Telegram oppure Instagram Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati qui nel mio canale io sono Krix e faccio ragazzi questo video veloce per informarvi che Rockstar Games oggi nella giornata del 4 gennaio 2024 con l'aggiornamento settimanale ha rilasciato nuovamente le piante peyote all'interno di GT Online per chi non lo sapesse queste piante sono delle piante che appunto si trovano sparse per la mappa di GTA Online sono un totale di 72, lo scopo di queste piante è mangiarle tramite la freccia destra per giocare sostanzialmente nei panni di un animale all'interno appunto di GTA Online dovete sapere soprattutto per le persone che si sono iscritte da poco al canale e non sanno di questa cosa esiste un glitch per fare RP infiniti grazie a queste piante quindi ragazzi oggi sono qui per comunicarvi che tutti e ripeto tutti i glitch che ho caricato per fare RP infiniti sul canale tramite queste piante sono ritornati a funzionare quindi ragazzi se siete di rango basso e volete salire di livello velocemente anche perché i metodi che ho caricato su questo glitch con le piante sono veramente facilissimi ce ne sono sia per PS4, Xbox One e PC ma anche per le versioni nuove del gioco oppure al tempo stesso anche versioni che funzionano sia per una che per l'altra console quindi appunto funzionano su tutte le console quindi ragazzi volevo comunicarvi che tutti i glitch da fare con le piante peyote ora sono ritornati a funzionare in questo video non vi spiegherò come funziona il metodo vi lascerò direttamente ragazzi tutti i link in descrizione quindi mi raccomando ragazzi andate in descrizione e troverete praticamente tutti i video che ho fatto su questo glitch per fare RP infiniti con le piante peyote che ho caricato insomma negli anni su questo canale anche perché queste piante sono delle piante che vengono rilasciate per l'appunto ogni tanto da Rockstar Games così quando gli gira la testa insomma e quindi ogni volta che praticamente queste piante tornano online questo glitch per fare RP infiniti viene nuovamente diciamo attivato poi ovviamente quando vengono rimosse il glitch viene patchato quindi si crea questa sorta di loop in cui appunto quando ci sono le piante il glitch per fare RP infiniti funziona quando non ci sono le piante viene patchato vi lascerò appunto tutti quanti i video qua sotto in descrizione non vi preoccupate se c'è scritto patchato nel titolo ragazzi perché alcuni video risalgono a tipo 3 anni fa se non di più quindi ovviamente non ho voglia di star lì a cambiare titolo, descrizione e quant'altro ok quindi non vi preoccupate il glitch funziona pertanto non commentate scrivendo eh ma è patchato perché ragazzi le piante sono tornate online quindi tutti i glitch che ho fatto riguardo le piante peyote sono anche questi tornati a funzionare preciso una sola cosa ovvero che le piante verranno rimosse la mattina di giovedì 11 gennaio 2024 quindi ragazzi avete una settimana di tempo a partire da oggi per fare questo glitch per salire di livello velocemente questo glitch vi consente di fare 5000 rp ogni praticamente uno o due minuti a seconda del metodo che utilizzate se siete da next gen dovrete usufruire del metodo per next gen se invece siete da old gen quindi ps4, xbox one e pc old gen appunto sono le console ps4, xbox one e pc troverete in descrizione tutta una serie di video realizzati riguardo questo glitch per fare rp infiniti quindi signori miei mi raccomando approfittatene soprattutto se che ne so avete comprato il gioco ieri siete di rango basso non sapete come salire di livello oppure semplicemente vi rompete le palle di fare attività e cose del genere per salire di livello usate assolutamente questo glitch per fare rp infiniti vi ripeto troverete tutti i link qua sotto in descrizione detto questo ragazzi nulla io vi saluto vi ringrazio qua da Krix è tutto non sto qui a chiedervi mi piace a dire dello shop e via dicendo volevo semplicemente informarvi di questa cosa nel più breve tempo possibile quindi mi raccomando ragazzi approfittate detto questo io vi saluto vi ringrazio qua da Krix è tutto e noi come al solito ci si becca con un prossimo video prossima live o un prossimo glitch bella wadiuuu e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video e noi come al solito ci si becca con un prossimo video